State a casa, è l'appello del CAF a CGL di Treviso a tutti i cittadini. Il CAF c'è solo con una nuova modalità, a distanza. È sufficiente chiamarci allo 0422 4091 tasto 2 e noi vi elaboreremo tranquillamente tutte le pratiche e voi potrete starvene comodamente a casa. Stiamo contattando tutti i cittadini che avevano già l'appuntamento fissato, tranquillizzandoli e gestendo comunque da casa le pratiche. State tranquilli, il CAF c'è adesso e anche per i prossimi giorni fino a conclusione dell'emergenza sanitaria. State a casa.